Tamiya, kit statico in scala 1 a 20, Porsche 935 Vailant con pilota, cutter con manico azzurro e 25 lame, supporto per aerografi comprensivo di pipetta lunga, set di 8 animali in scala 1 a 35, mini 4WD, cerchi carbon diametro largo con gomme in silicone trasparenti, mini 4WD, cerchi diametro largo con ruote leggere e strette, mini 4WD, mantarei MK2, black special, master tool, vassoi impilabili in plastica per la miscelazione di vernici o il contenimento di piccole minuterie, teca di piccole dimensioni per modelli in scala 1 a 144, 1 a 43, 1 a 72, NOC, set di 19 personaggi della città in scala H0, panca non inclusa, set di 18 personaggi a lavoro in scala H0.